In attesa del ritiro vero e proprio, per i giocatori del Pescara è comunque arrivato il momento di iniziare a sudare. Da ieri i bianchezzurri lavorano agli ordini del neotecnico Luciano Zauri al Poggio degli Olivi. Primi test atletici che vengono svolti assieme alle visite mediche. Giorni utili anche per far conoscere vecchi e nuovi volti nel contesto di un mosaico che dovrà essere completato, soprattutto nel reparto d'attacco. Nel fine settimana Zauri stilerà la lista dei convocati per il ritiro di Palena, partenza fissata, domenica mattina. Intanto le ultime ore hanno portato all'ufficialità di operazioni chiuse da tempo. Il centrocampista Mattia Proietti e l'attaccante Alexis Ferrante vanno alla Ternana. Il primo, portato a Pescara dalla coppia Pavone-Zeman, in prestito al Teramo lo scorso anno, va via a titolo definitivo e firma un triennale con le fere per Ferrante. Si tratta di prestito ufficiale anche Willy Brassiano-Tabì, il centrocampista ivoriano che il Pescara ha acquisito in prestito dall'Atalanta. Si attendono altre ufficialità per Massimiliano Busellato e i Vailo-Ciocev vanno attesi i tempi tecnici dello svincolo d'ufficio, una volta che sarà ratificata l'esclusione di Foggia e Palermo. Anche se il centrocampista bulgaro, causa infortunio, non si potrà subito unire ai nuovi compagni. Si avvicina anche il momento di Marco Tuminello, il centravanti di proprietà dell'Atalanta, prossimo a legarsi al Delfino con la formula del prestito. Al momento nella rosa di Zauri, come centravanti, c'è il solo Bunino. Tuminello sarà il terminale principale, almeno in queste prime settimane, in attesa delle importanti opportunità da cogliere sul mercato nel mese di agosto, quando le pretese dei calibri più grossi possono calare. Non è escluso che il Pescara possa buttarsi su qualche profilo minore, qualora Bunino, che ha fatto discretamente bene con la Under-23 della Juventus e ha mercato in C, possa partire subito. Lo stesso di essere petto ha confermato che vanno presi due, se non tre, attaccanti. L'optimum è avere un nome importante per l'attacco, con Tuminello prima alternativa, un terzo profilo, ora impersonificato da Bunino, e quindi il baby della primavera Borrelli, sul quale si potranno fare altre valutazioni prima del 2 settembre, data di chiusura del mercato. Situazioni in evoluzione anche sulla corsia Mancina. Due giorni fa avevamo parlato dell'interesse del Pescara per Nicola Falasco, il giocatore di proprietà del Perugia, piace, ma su di lui c'è anche l'entella. Non tornerà in Biancazzurro Giovanni Pinto, che il Parma sta girando in Serie C alla Catania, guidato dal pescarese Andrea Camplone. Nel pomeriggio, infine, l'apertura della campagna abbonamenti della stagione 2019-2020. Fino al 26 luglio i vecchi abbonati potranno esercitare la prelazione sul posto che avevano lo scorso anno, posti che dunque saranno bloccati fino a quella data. Dal 27 luglio la vendita degli abbonamenti sarà completamente libera.